Giuliano Jurkic, Area Manager Italia, SIAC Techboard. Si è appena conclusa il nostro hub delle tecnologie qui a Napoli e il suo intervento verteva su ingegneria made in Italy, prodotto di qualità e soluzioni conformi alle norme vigenti. Si è stata l'occasione per puntualizzare la linea, il filo conduttore di tutta l'azienda Techboard e quindi ingegneria made in Italy, competenza all'interno di tutte le divisioni di Techboard come PCB, PCBA, di SIAC-TB come divisione di sicurezza e di N-Power-TB a livello di capacità di progettare, realizzare e gestire nel tempo le soluzioni che i clienti ci commissionano, ci richiedono. Tra l'altro con il vostro prodotto DJI siete perfettamente in linea anche con il futuro della privacy. Assolutamente sì, abbiamo cercato come sempre di anticipare i tempi, abbiamo investito e abbiamo la certificazione sulla normativa privacy e anche su tutte le novità in arrivo con il nuovo regolamento europeo. Speriamo passi l'ultimo iter burocratico e sia divenga effettivo tutti gli effetti. Interesse anche per N-Power, tutta la sezione dei progettisti, dal collegio dei periti a quello all'ordine degli ingegneri, per non parlare del CNA, molto interesse sul discorso energia. Assolutamente sì, la divisione energia lo riscontriamo quotidianamente, riscuote successo, sulla bocca di tutti e il fatto di anche qui avere le competenze per progettare, realizzare e gestire nel tempo un progetto, essendo certificati ESCO, che poi dia luogo, permetta di andare ad accedere a quelli che sono i certificati bianchi per rientrare nell'investimento, sicuramente è un vantaggio, rassicura i clienti. E poi la vostra forte internazionalizzazione. Sì, un made in Italy esportato, siamo orgogliosi di riuscire a confezionare la soluzione in toto e dargli il bollino made in Italy.